È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio l'uomo che il 15 gennaio scorso a Vasto piazzò un ordigno incendiario sotto l'auto della donna, vittima delle sue persecuzioni da tempo. L'uomo, pregiudicato di origine calabrese, in passato scontò 20 anni di carcere a Vasto per omicidio. Tra le accuse che gli vengono mosse c'è anche quella di atti persecutori nei confronti della 48enne vastese della quale si era invaguito. Per la mia assistita è la fine di un incubo, dice il Tg Max, l'avvocato della donna, Rosario Di Giacomo. L'adozione del provvedimento da parte del Tribunale di Vasto rappresenta per la mia assistita la fine di un incubo. Al momento ritengo doveroso esprimere un sentito ringraziamento agli inquirenti per la tempestività e la professionalità che hanno mostrato nel compimento delle indagini, le quali sono tuttora in corso per cui attendiamo l'esito delle stesse.